Ricerca scientifica, scoperte archeologiche, arte e passione per la coltivazione della vite in un territorio ineguagliabile come quello del Parco dell'Arcipelago Toscano e dell'Isola d'Elba. Hanno dato vita ad un prodotto che racconta una storia millenaria, Ennesos, il vino marino realizzato dall'azienda agricola Arrighi in collaborazione con il professor Attilio Scienza dell'Università di Milano, nato replicando le tecniche della produzione dell'antichissimo vino dell'Isola di Chio. La particolarità di questo vino, che lo rendevano unico al mondo, era che le uve venivano fatte appassire immergendo le inceste di vimini nell'acqua di mare. Oggi possiamo dire che stappiamo la prima bottiglia di Ennesos. Come è nato questo vino? Cosa ha di speciale? È un vino estremamente diverso. Se lo bevevano 2400 anni fa non può essere un vino di oggi completamente diverso, dove alla base c'è una certa quantità di sale che gli ha fatto da antiossidante e disinfettante al posto naturalmente dei solfiti. In più, un'altra cosa molto importante è che dalle analisi dell'Università di Pisa si sono raddoppiati i polifenoli, quindi una situazione nel mare particolare. Abbiamo utilizzato un'uva, che è l'uva ansonica, un'autotona dell'isola d'Elba, con una buccia estremamente resistente, quindi ci ha permesso di tenere l'uva la prima volta, cioè questo vino che degustiamo oggi, cinque giorni a meno sette metri. Il sale perché ci ha aiutato a togliere la pruina, quindi l'appassimento è stato più veloce, ma non è un appassimento leggero. Un appassimento più veloce significa mantenere nell'uva più gusto, più aromi. Ricreare un vino prodotto 2400 anni fa per stappare una bottiglia e tornare indietro nel tempo è stato possibile grazie a un esperimento scientifico unico al mondo condotto all'isola d'Elba. I vini di Chio, piccola isola dell'Egea orientale, facevano parte di quella ristretta elite di vini greci considerati prodotti di lusso sul ricco mercato di Marsiglia e successivamente di Roma. Varrone li definiva vini dei ricchi e come ricorda Plino il Vecchio, Cesare li offrì al banchetto per celebrare il suo terzo consolato. Ci siamo così trovati con un gruppo di archeologi, i quali avevano trovato moltissime anfore in relitti marini, tutte quante che erano identificabili come Chio o direi simili a Chio. E non ci si rendeva conto come mai una piccola isola del Peloponeso avesse la capacità di portare un numero così straordinario di anfore in occidente. Questo vino di Chio, che era anche famoso per questi romani, era veramente una specie di vino straordinario, era qualcosa di molto caro, di molto particolare. Anche il modo di fare il vino, che era un segreto, nessuno sapeva il segreto di questa lavorazione e di questa fama di questo vino. Il segreto era molto semplice, loro mettevano quest'uva in ceste nel mare, il mare in pochi giorni toglieva la pruina, questa cera che c'è sopra gli acini, e in poco tempo gli acini appassivano, non rovinando il patrimonio aromatico. Nella tecnica tradizionale l'appassimento durava 3-4 settimane, quindi era molto lungo e l'alterazione provocata dalle temperature elevate era così forte da rovinare il gusto del vino. Loro invece avevano questo vino molto fragrante, molto particolare, ma non volevano dirlo a nessuno praticamente. Di questo vino, Vendemmia 2018, sono state prodotte solo 40 bottiglie, l'ultima Vendemmia, la 2019, è ancora nelle anfore di terracotta a contatto con le bucce. Il documentario Vino Minsule, diretto e prodotto da Stefano Muti, che racconta l'esperimento enologico di Nesos, è stato premiato al 26esimo Festival Internazionale Enovideo di Marsiglia come miglior cortometraggio e dalla Revue Desenologue per l'originalità e il valore della sperimentazione del progetto. Quello che presentiamo è un percorso di recupero della storia, è un'esperienza di produzione di vino che ha radici antiche, che oggi viene riproposta e che racconta molto del nostro mare, del nostro archipelago, della nostra isola. Io spero che su questa esperienza, quella compiuta nello scorso anno, si possa nei prossimi anni trovare un percorso per un prodotto innovativo, ma al tempo stesso anche un vino che racconta una nostra preziosa storia. Sposta l'attenzione dalla storia alla contemporaneità, cioè una tradizione, il territorio, il paesaggio, vigne antiche, all'improvviso promuovono un vino nuovo, contemporaneo, che si affaccia ed è premiato a livello internazionale. È la dimostrazione di come un turista può fare in Toscana un'esperienza che a partire da mille anni fa si traduce in una passeggiata nelle vigne e in un assaggio di una nuova produzione. E nel momento in cui il turista passa da fare una visita passiva dei territori a esperienze turistiche, questa è la dimostrazione migliore di come anche in periodi fuori la stagionalità balneare, all'isola d'Elba si fanno esperienze speciali. Grazie a tutti.